Sì, accanto a me voleva intervenire su questo un compagno della squadra di Giuliana, qui è accanto al mio fianco. Pronto, buonasera a tutti. Con chi parlo? Sonni d'Angelo. Ah, mi sono un illo, perché mi aspettavo... Benvenuto Sonni. Grazie. Comunque, secondo me l'ha vestito la ragazza. Ti ha vestito la sua ragazza, sta dicendo? No, no, mia moglie. Ma no, 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 perché da qui dalla tv non si vede, si vede sulla camicia. Vabbè, ma l'hai abituato? Sempre con tute, a volte viene col pigiama, perciò anche quando è venuto qui ho visto che è venuto col pigiama. Diciamo che ha alzato un po' il livello, capitano. Ah, questo sicuramente. Ma si possono vedere le scarpe che indossa? Mi devo alzare? Eh, non riuscire. Guarda le un po', ecco qua, belle scarpe, scusate. Ma questi sono i pacchetti in ferro o le gommate? Vabbè, te le hai presto, Sonni, tranquillo, non ti preoccupare. Grazie.